Il progetto Ficure è arrivato ormai a maturità, ormai sono nove i siti dei 23 originali più il 24esimo che abbiamo aggiunto l'anno scorso, ma sono nove i siti per cui abbiamo già trovato, identificato quella che è un progetto di riqualificazione. Tutti i progetti di riqualificazione che abbiamo scelto sono progetti di riqualificazione che sono sostenibili ambientalmente, socialmente ed economicamente come da principi del progetto Ficure stesso. Andiamo da destinazioni d'uso di tipo logistico come quella di Carpi, piuttosto che destinazioni d'uso di tipo completamente diverso come il turistico ricettivo che stiamo portando avanti a Piombino o il ludico, un parco ludico sul mondo dell'automotive a Trino.